GIOIELE, CAPITOLO PRIMO La parola dell'Eterno che fu rivolta a Gioiele, figliuolo di Petuel. Udito questo, o vecchi, porgete orecchio voi tutti abitanti del paese. Avvenne egli mai similcosa ai giorni vostri o ai giorni dei vostri padri? Raccontatelo ai vostri figliuoli e ai vostri figliuoli, ai loro figliuoli e ai loro figliuoli all'altra generazione. L'avanzo lasciato dal bruco l'ha mangiato il grillo, l'avanzo lasciato dal grillo l'ha mangiato la cavalletta, l'avanzo lasciato dalla cavalletta l'ha mangiato la locusta. Destatevi ubriati e piangete. Urlate voi tutti i bevitori di vino, poiché il mosto v'è tolto di bocca. Un popolo forte e senza numero è salito contro al mio paese. I suoi denti sono denti di leone e ha macellari da leonessa. Ha devastato la mia vigna, ha ridotto in minuti pezzi i miei fichi, li ha deltutto scorsati e lasciati là coi rami tutti bianchi. Lamentati come vergine cinta di sacco che piange lo sposo della sua giovinezza. Offerte e libazione sono scomparsi dalla casa dell'Eterno. I sacerdoti e ministri dell'Eterno fanno cordoglio. La campagna è devastata. Il suolo fa cordoglio perché il frumento è distrutto. Il mosto è seccato e l'olio languisce. Siate confusi, o agricoltori, urlate, o vignaiuoli, a motivo del frumento e dell'orso, poiché il raccolto dei campi è perduto. La vite secca, il fico languisce, il melagrano, la palma, il melo, tutti gli alberi della campagna sono secchi. La gioia è venuta meno tra i figliuoli degli uomini. Cingetevi di sacchi e fate cordoglio, sacerdoti. Urlate, voi ministri, dall'altare. Venite, passate la notte vestiti di sacchi, o ministri del mio Dio, poiché l'offerta e l'alibazione sono scomparse dalla casa del vostro Dio. Bandite un digiuno, convocate una solenne radunanza. Radunate gli anziani, tutti gli abitanti del paese, nella casa dell'Eterno del vostro Dio, e gridate all'Eterno. Ai che giorno, poiché il giorno dell'Eterno è vicino, e verrà come una devastazione mandata dall'Onipotente. Il nutrimento non ci è esso tolto sotto ai nostri occhi. La gioia e l'esultanza non sono esse scomparse dalla casa del nostro Dio. I semi marciscono sotto le zolle, i depositi sono vuoti, i granai cadono in rovina, poiché il grano è perito per la siccità. Oh, come geme il bestiame! Gli armenti sono costernati perché non c'è pastura per loro, i greggi di pecore patiscono anch'essi. A te, o Eterno, io grido, perché un fuoco ha divorato i pascoli del deserto, e una fiamma ha divampato tutti gli alberi della campagna. Anche le bestie dei campi anelano a te, perché i rivi dell'acqua sono seccati, e un fuoco ha divorato i pascoli del deserto. Gioiele, capitolo secondo Sonate la tromba in Sion, date allarme sul monte del mio santo, tremino tutti gli abitanti del paese, poiché il giorno dell'Eterno viene, perché è vicino, giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di numi, di fitta nebbia. Come l'alba si spande sui monti, viene un popolo numeroso e potente, quale non si vide mai prima, né mai più si vedrà, negli anni dell'età più remote. Davanti a lui un fuoco divora, e dietro a lui divampa una fiamma. Prima di lui il paese era come un giardino di Eden, dopo di lui è un deserto desolato, nulla gli sfugge. A vederli paion cavalli, e corron come de cavalieri. Si fa come uno strepito di carri, quando saltano sulle vette dei monti, fanno un crepitio di fiamma che divora la stoppa, son come un popolo poderoso schierato in battaglia. Davanti a loro i popoli sono in angoscia, ogni volto impallidisce, corrono come uomini prodi, danno una scalata alle mura come gente di guerra, ognuno va dritto davanti a sé, e non devia dal proprio sentiero. Nessuno sospinge il suo vicino, ognuno avanza per la sua strada, si slanciano in mezzo ai dardi, non rompono le file, invadono la città, corrono sulle mura, montano sulle case, entrano per le finestre come un ladro. Davanti a loro trema la terra, i cieli sono scossi, il sole e la luna soscurano, le stelle ritirano il loro splendore. L'Eterno dà fuori la sua voce davanti al suo esercito, perché immenso il suo campo è potente l'esecutore della sua parola. Sì, il giorno dell'Eterno è grande, oltremondo terribile. Chi lo potrà sopportare? E non di meno, anche adesso, dice l'Eterno, tornate a me con tutto il cuor vostro, con digiuni, con pianti, con lamenti. Stracciatevi il cuore, e non la veste, e tornate all'Eterno, al vostro Dio, poiché Egli è mesiricordioso e pietoso, lento all'ira, e pieno di bontà, e si pente del male che manda. Chi sa che, che ei non si volga e si penta, lasciando dietro a sé una benedizione delle offerte e delle libazioni per l'Eterno, per l'iddio vostro? Sonate la tromba in Sion, bandite un digiuno, convocate una solenne radunanza, radunate il popolo, bandite una santa assemblea, radunate i vecchi, radunate i fanciulli, e quelli che poppano ancora. Esca lo sposo dalla sua camera, e la sposa dalla propria alcova, tra il portico e l'altare, piangono i sacerdoti, i ministri dell'Eterno, e dicano, risparmia, o Eterno, il tuo popolo, e non esporre la tua eredità allo proprio, ai monteggi delle nazioni, poiché si direbbe fra i popoli, dov'è il loro Dio? L'Eterno si è mosso a gelosia per il suo paese, e ha avuto pietà del suo popolo. L'Eterno ha risposto, e ha detto al suo popolo, ecco, io vi manderò del grano, del vino e dell'olio, e voi ne sarete saziati, e non vi esporro più allo proprio fra le nazioni. Allontanerò da voi il nemico che viene dal setenzione, e lo caccerò in una terra arrida e desolata, la sua avanguardia verso il mare orientale, la sua retroguardia verso il mare occidentale, la sua infezione salirà, salirà il suo fetore, poiché ha fatto cose grandi. Non temere, o suolo del paese, gioisci, rallegrati, poiché l'Eterno ha fatto cose grandi. Non temete, o bestie della campagna, poiché i pascoli del deserto riverdeggiano, perché gli alberi portano il loro frutto, il fico e la vite producano largamente. E voi, figliuoli di Sion, gioite, rallegrativi nell'Eterno, nel vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura, e fa cadere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera al principio della stagione. Le aie saranno piene di grano, e i tini traboccheranno di vino e d'olio, e vi compenserò delle annate che hanno mangiato il grillo, la cavalletta, la locusta e il bruco, e il mio grande esercito che avevo mandato contro di voi. Voi mangerete a sazietà, e loderete il nome dell'Eterno, del vostro Dio, che avrà operato per voi delle meraviglie, e il mio popolo non sarà mai più coperto d'onta. E voi conoscerete che io sono in mezzo ad Israele, e che io sono l'Eterno, il vostro Dio, e non ve n'è alcun altro, e il mio popolo non sarà mai più coperto d'onta. E dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figlioli e le vostre figliole profetizzeranno, e i vostri vecchi avranno dei sogni, e i vostri giovani avranno delle visioni, e anche sui servi e sulle serve spanderò in quei giorni il mio spirito, e farò dei prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo, e il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. E avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato, poiché sul monte Sion ed in Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto l'Eterno, e fra gli scampati che l'Eterno chiamerà. Gioiele capitolo terzo Poiché ecco, in quei giorni, in quel tempo, quando ricondurrò dalla cattività quei di Giude e di Gerusalemme, io radunerò tutte le nazioni, e le farò scendere nella valle di Giosafat, e verrò qui in giudizio con esse a proposito del mio popolo ed Israele e mie eredità, che esse hanno disperso fra le nazioni e del mio paese, che hanno spartito fra loro. Han tirato a sorte il mio popolo, han dato un fanciullo in cambio di una meretrice, han venduto una fanciulla per del vino, e si son messi a bere. E anche voi, che prendete da me, Tiro e Sidone, e voi tutte regioni di Filistia, Volete voi darmi una retribuzione, o volete far del male contro di me? Tosto! In un attimo io farò ricadere la vostra retribuzione sul vostro capo, poiché avete preso il mio argento e il mio oro, e avete portato nei vostri templi il meglio delle mie cose preziose, e avete venduto ai figliuoli degli Yavaniti i figliuoli di Giuda e i figliuoli di Gerusalemme, per allontanarli dai loro confini. Ecco, io li farò muovere dal luogo dove voi li avete venduti, e farò ricadere la vostra retribuzione sul vostro capo, e venderò i vostri figliuoli e le vostre figliuole e figliuoli di Giuda, che li venderanno ai Sabei in azione lontana, poiché l'Eterno ha parlato. Proclamate questo fra le nazioni. Preparate la guerra. Fate sorgere i prodi. S'accostino, salgano tutti gli uomini di guerra. Fabricatene spade coi vostri vomeri e lance con le vostre roncole. Dica il debole, son forte. Affrettatevi, venite, nazioni d'ogni intorno, e radunatevi. Là, o Eterno, farà scendere i tuoi prodi. Si muovino e salgano le nazioni nella valle di Giosafat, poiché là io mi assidierò a giudicare le nazioni d'ogni intorno. Mettete la falce, poiché la messa è matura. Venite, calcate, poiché lo strettoio è pieno, i tini traboccano, poiché grande è la loro malvagità. Moltitudini, moltitudini nella valle del giudizio, poiché il giorno dell'Eterno è vicino nella valle del giudizio. Il sole e la luna s'oscurino, e le stelle ritirino il loro splendore. L'Eterno ruggirà da Sion, farà risuonare la sua voce da Gerusalemme, e i cieli e la terra saranno scossi, ma l'Eterno sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figliuoli di Israele. E voi saprete che io sono l'Eterno, il vostro Dio, che dimora in Sion, mio monte santo, e Gerusalemme sarà santa, e gli stranieri non vi passeranno più. E in quel giorno avverrà che i monti stilleranno mosto, il latte scorrerà dai colli, e l'acqua fluirà da tutti i rivi di Giuda, e dalla casa dell'Eterno sgorgerà una fonte che irrigherà la valle di Sitim. L'Egitto diventerà una desolazione, e Edon diventerà un desolato deserto a motivo della violenza fatta ai figliuoli di Giuda, sulla terra dei quali hanno sparso sangue innocente. Ma Giuda sussisterà per sempre, e Gerusalemme d'età in età. Io vendicherò il loro sangue, non lo lascerò impunito, e l'Eterno dimorerà in Sion.